Grazie. Buona giornata. Mi chiamo Ed. Levao un caffè. Secondo me sono nella metà sbagliata dei 60. Non penso che ci sia una metà sbagliata nei 60. Intendevo che mi piaci sul serio. E la cosa mi spaventa a morte. Non sei tornata a casa ieri. Ciao. Ben arrivati. È la mia ragazza. Tutto questo finirà. Che signore? In prima visione. Non fai altro che pensare al domani. Ma io sono qui, qui, adesso. The Tomorrow Man. Questa sera, 21.20, Rai 3.